Un trascinatore, una persona empatica, un uomo dotato di una intelligenza scoppiettante. Tessere le lodi di Antonio Maruccio è stato un esercizio semplice, perché il procuratore generale della Corte d'Appello di Lecce ha lasciato il segno sul piano professionale e anche su quello umano. Non sta a me dire quale eredità lascio il lavoro che abbiamo svolto in questi anni e per il quale ci siamo tutti impegnati e che è stato possibile proprio perché è stato il frutto di una sinergia, di una collaborazione condivisa, di un impegno condiviso e sotto gli occhi di tutti saranno gli altri poi a valutare e a giudicare se è quel che abbiamo fatto. Nel giorno del suo rendezvous, al suo mandato alla Corte d'Appello, c'è spazio anche per i ringraziamenti. In primis a Mario Buffa e Vittorio Amone e per i ricordi. 1981 cosa le ricorda? L'ingresso in magistratura 43 anni fa, 43 anni dedicati al servizio durante i quali ho cercato di fare del mio meglio e per rendere giustizia un compito per il quale siamo sempre impreparati e per il quale deve essere massimo l'impegno. Fondamentale il suo ruolo nell'antimafia, basti pensare alla sua attività come commissario straordinario del governo per i beni confiscati. Cosa ne suggerisce la parola confisca? La confisca mi riporta ad una delle più belle esperienze che ho avuto la possibilità di fare come commissario straordinario del governo con il governo Prodi e con il governo Berlusconi. Ho avuto la fiducia di tutti e due i governi ed è stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo innovato in quel settore e abbiamo segnato un cambio di passo che è stato riconosciuto anche dal Parlamento che ha istituito l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, quindi una delle esperienze più belle. Non poteva mancare un cenoco al maledetto 19 luglio 1992, il giorno della strage di Via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. A reggere momentaneamente le redini della Procura Generale della Corte d'Appello sarà l'Avvocato Generale Giovanni Gagliotta. Per Antonio Maruccia si apre invece un nuovo capitolo, sarà il Presidente della Commissione d'Esame per il concorso nazionale in magistratura.